In una recente intervista, Paolo Cesare Maldini, ex calciatore italiano e una delle più grandi leggende del Milan, ha commentato le prestazioni delle squadre nella stagione attuale della Serie A, Maldini, ampiamente riconosciuto come uno dei migliori difensori della storia del calcio, non ha nascosto la sua ammirazione per il Napoli, che ha impressionato con un inizio di stagione impeccabile. In questo momento, il Napoli ha una squadra più completa del Milan, ha affermato l'ex difensore. Il Napoli, che rimane imbattuto in campionato, occupa il primo posto in classifica con una serie impressionante di vittorie, senza aver ancora conosciuto il sapore della sconfitta in questa stagione. La squadra si è affermata come leader indiscussa della Serie A, mostrando un calcio offensivo e solido in difesa, lasciando dietro rivali tradizionali come il Milan e la Juventus Maldini ha riconosciuto che questa consistenza rende il Napoli un forte candidato per il titolo. Nonostante il suo amore incondizionato per il Milan, club che ha difeso per oltre 20 anni, Maldini è stato realista nella sua analisi. Il Milan ha qualità, ma il Napoli sta giocando a un livello superiore. Hanno più opzioni tattiche e una rosa che può fare la differenza nelle partite decisive, ha spiegato l'ex capitano rosso-nero. Per lui, l'equilibrio tra difesa e attacco che il Napoli ha dimostrato è il fattore chiave della stagione. La stagione è ancora nei primi mesi, ma la dichiarazione di Maldini rafforza il favore del Napoli, che continua a mostrare un calcio consistente e dominante. Con una serie imbattuta, la squadra del Sud Italia inizia già a essere vista come la favorita per il titolo, qualcosa che Maldini, con tutta la sua esperienza, non ha mancato di riconoscere. Il Napoli si sta senza dubbio distinguendo come la squadra da battere in questa edizione della Serie A.